Enel e Legambiente hanno presentato l'iniziativa Leva la speranza che punta a sostenere aziende e levatori colpiti dal sisma e dalle nevicate. La campagna vuole favorire la rinascita degli aziende e degli allevatori abruzzesi e del centro Italia colpiti dall'ultimo sisma e dalle nevicate del 2017 con la presentazione della prima azienda oggetto della campagna di crowdfunding raccolta fondi. L'allevatrice Teresa Piccioni che assieme ai tre figli e al marito manda avanti un allevamento per la produzione di latte, formaggi e carni da consumo. La campagna interesserà più interventi in Abruzzo. È ancora possibile contribuire alla causa di Teresa Piccioni ma chi vuole si affretti. Della difficile situazione di Teresa se ne occupata anche Marina Moretti con Antonio Dottavio in una puntata del Lato Positivo. La campagna è sviluppata in quattro regioni Lazio, Abruzzo, Marche e Umbria. Per l'Abruzzo è stata scelta un'allevatrice Teresa Piccioni che ha avuto grossi danni dovuti alla sisma del 2016 e delle nevicate susseguenti del 2017. Attualmente la campagna si propone di raccogliere 29.400 euro su una piattaforma di crowdfunding che si chiama planb.bz. Volendo si cerca anche che alleva la speranza che appunto è il nome della campagna si può direttamente accedere sul sito web e fare una donazione. Ci è rimasto poco tempo per la campagna e il 31 marzo scadono i termini quindi faccio un appello a tutti quanti le persone di buon cuore. È un progetto importante perché durerà fino al 2020 e ci permetterà di aiutare fino tra i 20-25 imprenditori che lavorano nel settore della zootecnia colpiti dal sisma. Il nostro contributo qual è stato? È stato quello di creare una piattaforma insieme con il sito planb.bz. Questa è una vera e propria crowdfunding, quindi è una raccolta fondi. Ogni persona può andare sul sito, guardare i vari progetti e scegliere a chi poter donare. Ovviamente poi oltre alla donazione pubblica ci sarà un contributo da parte di di avere lo stesso.